La polenta avanzata non si butta e ti devi assolutamente preparare questi gnocchi morbidi e velocissimi Schiaccia la polenta con uno schiacciapatate oppure frullala poi fai la stessa cosa con la ricotta Unisci sale, noce moscata, pepe, uova, grana gracciugiato, mescola poi farina Forma gli gnocchi al solito modo, acqua bollente salata e cuocili per 4 minuti A fianco ci potresti fare una fonduta al gorgonzola ad esempio dove si tufferanno e salteranno allegramente E se vuoi altre ricette di montagna guarda Sapore di Montagne su Food Network o Discovery Plus Ciao